Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta d'avena al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fiocchi d'avena, banane mature, latte caldissimo, sale, uova, cacao amaro, lievito per dolci vanigliato, pasta di limone, grigli di noce, gocce di cioccolato fondente, cioccolato fondente e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo il latte caldissimo nei fiocchi d'avena. Amalgamare bene. Lasciare e riposare per 10 minuti. Mettere nel boccale le banane ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 6. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova e il sale. ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4. Aggiungere la pasta di limone, il cacao amaro e il lievito. Ad azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4. Aggiungere i fiocchi d'avena con il latte. ed azionare il bimbi per 1 minuto, anti-orario, velocità 2. versare il composto in una tortiera da 20 centimetri rivestita con carta da forno. Aggiungere le gocce di cioccolato fondente e i gherigli di noci spezzettati. Cuocere in forno pre riscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti. Fare la prova a stecchino. La torta è cotta. Lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Nel frattempo fondere il cioccolato fondente. Abbiamo fuso il cioccolato fondente. Aggiungere il latte e amalgamare man mano. Trasferire in una sac à poche e decorare la torta. torta d'avena al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie a tutti.